buongiorno a tutti oggi voglio fare l'unboxing di un gioco che ha origine da un altro gioco cioè terraforming mars questa è la versione ares expedition e fa diciamo così parte di quella serie di giochi di carte che traggono origine come è successo per altri giochi che traggono origine da un gioco in scatola e viene trasformato poi in una gestione con i giochi di carte il primissimo che mi ricordo era le leggende di andor al quale poi fu successivamente aggiunto il il pacco di gioco di del gioco di carte e non mi ricordo come si chiamavano i due protagonisti ma questo è basato ovviamente su sul gioco terraforming mars non è necessario avere il gioco non è un'espansione ma è un gioco completamente indipendente 14 anni in su un'oretta il tempo di gioco e ovviamente alla versione in solitario e fino a quattro giocatori il tempo dipende ovviamente sempre dalla da quante regole già sappiamo da quanto conosciamo il gioco e anche ovviamente dalla velocità quindi io vado alla all'unboxing di questo gioco che probabilmente credo molti di voi già possiederanno e quindi voglio imparare bene a giocare prima di fare ovviamente una vostra una una partita in solitario allora apertura il manuale devo dire che mamma mia già dal manuale si capisce rispetto al alla prima edizione di terraformi mars in cui c'erano ovvio oggettivamente il manuale e il materiale non erano buoni questo è di una bellissima plastica non è solo una ventina di pagine c'è la panoramica le capacità delle carte e tutte le varie fasi del del gioco che richiamerà probabilmente sempre la terraformazione ovviamente di di marte attraverso non so se sono compagnie qui c'è una guida rapida che ti può accompagnare sono quattro pagine di guida rapida che sarà il il bigino di questo di questo manuale che non è neanche tanto lungo ma oggettivamente non non l'ho ancora guardato poi le plance vedete che già le plance ragazzi siamo tutta un'altra tutta un'altra forma e io mi ricordo le primissime plance che erano una plastichina anzi un cartoncino che c'era da stare attento a toccare queste insomma è già tutta è già tutto un'altra è già tutto un altro affare come materiale quindi ci sono le quattro plance per i quattro giocatori c'è il la plancia di gioco è un gioco di carte quindi qua ci sarà da piazzare alcune credo ecco qua mi sembra molto come materiali mi sembra molto richiamare come si chiama under for the skies molto micro come gioco come componentistica ma devo dire che questa volta è fatta molto molto bene queste sono le varie fasi sviluppo costruzione azione produzione e ricerca gli esagoni che devono andare a essere messi qui credo che siano foreste pianure e oceani credo che sia questo il coso è ovviamente il cuore del gioco che è dato questa credo che sia una corporazione notti sì non so se il aiuto al giocatore le carte aiuto giocatore e ci sono quattro corporazioni all'interno questi sono i cubetti i dadini che abbiamo imparato a conoscere dei vari i milioni le foreste l'energia il calore poi abbiamo ovviamente i cubettini che non sono più dorati ma sembrano le caramelle mu come colore e dico e poi ovviamente argento e bronzo che rappresentano le risorse abbiamo inserito anche a vabbè allora qua hanno fatto un lavorone tutti i porta i i porta token e i porta soldi e le cose quindi devo dire che è tutta un'altra cosa ci sono anche delle spugne di plastica protettiva in qualche modo ma credo ci siano e penso che saranno stampate che in italiano delle delle espansioni e qui ovviamente c'è il cuore del gioco ossia le mille mille carte le mille mille carte e io ne apro solo un pacchetto per cercare di vedere come è la qualità delle carte ecco che probabilmente bisognerà piazzare ovviamente attraverso i progetti che verranno sviluppati sviluppo queste sono tutte le varie abilità o le varie fasi ogni giocatore può giocare una carta progetto verde come bonus paga 3 milioni in meno per la carta che giochi in questa fase forse sono jolly che vengono utilizzati non lo so non ho ancora imparato queste credo che siano le varie compagnie sì perché i nomi sono quelli stessi elio necoline trattor credi core inventrix torgate mining guild e problo fobolog insomma tutte queste carte che rappresentano credo le varie corporazioni che partono con l'abilità iniziale gli effetti che hanno come potenziamento poi ci sono le carte che riguardano proprio i vari progetti questi sono progetti che credo verranno investiti nelle varie fasi da quello che ho capito quindi durante ad esempio la fase di azione posso giocare può attivare gli effetti di ogni azione una volta le azioni standard e le carte azioni sono queste che posso spendere 4 calorie per innalzare l'ossigeno di un livello non so se devo tapparle anche queste come nell'originale insomma qua ci sono le decine decine credo oltre 200 carte che rappresentano il mega mazzo dal quale noi partiamo è un gioco che ovviamente non richiede una vagonata di materiale è un gioco di carte anche se ci sono giochi di carte che hanno vagonate di materiali questo è mi sembra innanzitutto rispetto all'originale terraformi mars non so il gioco se sarà bello come lo proverò e poi magari sicuro anzi senza magari sicuramente farò una un video ma certamente dal punto di vista dei dei materiali abbiamo fatto un passo decisamente decisamente in più quindi mettiamo via metto via queste carte chiudo lascio il manuale velocissimo unboxing di terraformi mars ares expedition credo che siano già uscito usciranno italiano già delle espansioni questo è la come dovrebbe risultare il gioco e brava genus ad averla portata e quindi bellissimo spero di imparare presto e fare un video se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale se volete vedere come funziona il gameplay ovviamente in solitario grazie per aver seguito fin qui e buona giornata a tutti ciao